Il mondo della moto d'autore vive un nuovo ed entusiasmante capitolo, nasce la collaborazione tra Moto Argento, rinomato showroom, specializzato in hypermoto e Tamburini Corse, leader nel mondo nella realizzazione e progettazione di moto esclusive. A raccogliere l'importante testimone lasciato da Massimo Tamburini, scomparso nel 2014, ci ha pensato il figlio Andrea, da sempre collaboratore del padre e attivo nel suo dalizio con MV Agusta. Grazie a tutti Vere e proprie opere d'arte, le Tamburini non sono solo moto esclusive, ma sono anche un investimento sicuro. La loro rarità, unita al prestigio del marchio e al design senza tempo, fa sì che la domanda superi di gran lunga l'offerta e alimenta così il mercato del collezionismo. Vieni a visitare la più grande esposizione di Tamburini in Europa, ti aspettiamo! Ciao! 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 Ciao!